bentornati su my football jersey continuiamo con le maglie retro questa ovviamente è la prima maglia del real madrid per la stagione 1999 2000 la maglia di un campionissimo la maglia di raul e bella la maglia la ricordo con questo giocatore che io adoravo prima dell'era ronaldo è stato uno dei miei preferiti poi ronaldo e messi hanno riscritto un po la storia il costo comunque lo vedete qui sopra non aggiungo altro decidete voi cosa fare ma verrà la maglia veramente molto bella vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere perché è cosa importantissima c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo diventa ancora più vantaggioso prima di lasciarvi alla parte finale vi prego di iscrivervi al canale è un gesto che a voi non costa nulla ma che ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan